Ma è vero che esistono 16 nuove estensioni per Google Chrome in grado di rubare tutte le mie credenziali? Ebbene sì, andiamo a capirne di più. La notizia è rimbalzata su diverse testate di settore e non, e sostanzialmente si tratta di questo. Sul Chrome Web Store ufficiale erano presenti ben 16 estensioni infettate da un malware che era in grado di sottrarre le credenziali degli utenti per l'accesso a social network, posta elettronica, banche e tutto il resto. Ma ciò che in realtà rende particolarmente insidioso quest'attacco è la novità del suo metodo. Quello che avviene, infatti, è che grazie a queste estensioni fasulle veniamo spinti ad accedere ad un noto password manager che si chiama OnePassword e a salvare su di esso le credenziali relative a tutti quanti i siti a cui effettuiamo l'accesso. Va detto che in realtà OnePassword è assolutamente incolpevole in merito perché queste estensioni ne simulano una copia fasulla. Ma allora come possiamo proteggerci da questo attacco? Ebbene, la prima cosa da fare naturalmente è accertarci che sui nostri dispositivi non siano presenti le estensioni incriminate, che sono quelle che ti sto mostrando in questo momento in questo elenco. Fai attenzione perché se una o più di queste estensioni dovessero essere presenti, la prima cosa da fare sarà naturalmente quella di andare a rimuoverle. Nel caso in cui tu non sia riuscito a leggere l'elenco completo delle estensioni incriminate, niente paura. Ti lascio tutti i riferimenti di cui puoi aver bisogno nella descrizione di questo short sul canale YouTube. Ma ci sono anche delle altre raccomandazioni che devo farti. Innanzitutto è sempre bene ricordarsi di avere dei software sempre aggiornati. In secondo luogo di scaricare solo ed esclusivamente da fonti sicure ed affidabili. E in terzo luogo quella di utilizzare laddove sia possibile una autenticazione a due fattori, meglio ancora se con l'uso di una chiavetta Fido 2 come questa. Alla prossima!